Con il tuo 5 per 1000 puoi dare un grande aiuto alla nostra ricerca. Lavoriamo ogni giorno per combattere le patologie correlate all'età, così da migliorare la qualità della vita degli anziani di oggi e di domani. Il tuo contributo è fondamentale e non ti costa nulla. Basta inserire nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97087620585 e la tua firma nello spazio dedicato al finanziamento della ricerca scientifica e delle università. Ricordati che la firma è necessaria per destinare correttamente il tuo 5 per 1000. Fai una scelta per il tuo domani a partire da oggi. Sei pronta a metterci la firma? Università Campus Biomedico di Roma. La scienza per l'uomo.